Cari amici, che spettacolo eh! Oggi siamo nuovamente a Pavia, questo è il panorama su Pavia, vedete il Duomo, vedete il ponte coperto, da un'altra angolatura, e andiamo a visitare un po' le fattorie, stavolta le fattorie in provincia di Pavia. Gennaro Giolmini. Il Duomo, il ponte coperto, un panorama distinto, visto da una diversa angolatura, e ciao, come sempre continuiamo con le cose anche belle, anche belle da farvi vedere. Oggi nelle fattorie della provincia di Pavia, vedremo, vediamo cosa riusciremo a vedere. Due pale da mulino, due pale ad acqua, fruttando l'acqua dei fiumi, l'acqua del torrente, addirittura due pale doppie, e lì una pala invece dà olio, e sono cose antiche che sono rimaste attraverso i secoli. La roccia del torchio per fare l'olio, l'olio appunto che poteva essere di noci, di varie cose, di varie essenze, di vari semi, soprattutto si usava i semi vari di varie piante, l'olio di colcia, l'olio di girasole. Chissà che un giorno torneranno a funzionare? Io direi di sì, perché le cose belle sarebbe veramente bello farle funzionare. Io direi di sì, perché le cose belle sono le cose, perché le cose belle sono le cose, di sì, perché le cose belle sono le cose, perché le cose belle sono le cose, Siamo a Fallavecchia, il luogo si chiama così, questo è il momento in cui la l'angelo appare a Maria dicendo che concepirà Gesù, come sta scritto nella Bibbia, era fresco, noi per fede naturalmente ci crediamo, certamente, senza dubbio. Adesso andiamo a vedere le fattorie. Cari amici, andiamo a vedere l'interno di una fattoria, di un luogo rurale, una fattoria. Andiamo... Andiamo... Molto bene. Qua è fatto a parco. Notate l'architettura rurale. Notate anche che siamo svegliate alle 5 del mattino. Tutte le parti antiche, come vedete. E poi è a parco, di là, tutta la parte delle fattorie. E' addirittura una fontanella con le tortore. Una fontanella con le tortore. Tortore! Vedete che carine. E qua la fattoria. Andiamo a vedere. Cari amici, le mucche veramente. Ciao, bianchina. Ciao, nerina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate che carine. Bianchina la narina. La bianchina è dietro al muro. Bianchina. Che ne pensate cari amici? Mettete un bel like per queste belle mucche. Guardate che carine. E c'è tutta la parte fantastica della fattoria. Con la parte parrocchiale. E' tutto molto bello. Cari amici, ciao. Da Gennaro Gelmini, 6 aprile 2017. Della provincia, dopo il pavese, siamo già in provincia di Milano. Fallavecchia. Ciao. Un mucche allora di patto. Allora del... ...di mangiare. Carina, eh? Ti possono tenere come dei cagnetti in casa? Sì, se non ti fa schifo l'etame. Vedi? Ti possono tenere come dei cagnolini in casa. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora è vero, ho scommesso che saranno poche mucche, invece saranno tantissime mucche. Con tantissime mucche saranno, allora è vero che saranno il centenario di mucche. Non mi conoscono, allora se mi conoscessero magari, è vero, vorrebbero più tranquillamente, è vero? Allora ci conosciamo poco, è la prima volta che vengo qua a Fallavecchia. Ebbene, bellissimo posto, è il 6 di aprile 2017, era Gennaro Gialmini, vi ho portato in una fattoria come promesso. Con questa panoramica vi salutiamo. I tigli in fiore. Allora è vero. Ho spesso pensato al bel ponte di Pavia, Albert Einstein. E' un'altra parte di Pavia. 31 maggio di Pavia, 31 maggio di Pavia, 31 maggio di Pavia, 31 maggio di Pavia. Continuiamo il percorso con praticamente la parte dei Longobardi a Pavia, quindi la parte prima del Medioevo, la parte proprio dei Longobardi a Pavia. Con le torri medievali, partendo naturalmente dal fume vicino. Risolvi le cose difficili quando sono ancora facili. Attraversa l'universo un passo alla volta. L'antica porta della città di Pavia, che racconta di Re Alboino e del suo fiero cavallo, che quando entrò in città, il Re pensò di non radere lo suolo più Pavia, di conservarla e divenne una nuova città. Prima si chiamava Ticinum e poi divenne Pavia, con Re Alboino e dei Longobardi. Verso il palazzo di Re Alboino. E cari amici, il palazzo di Re Alboino, quando gli scooter ancora non esistevano, evidentemente. Il palazzo del Re dei Longobardi Alboino. Stiamo qua a Pavia a godercelo. Ecco il palazzo. Ecco il palazzo. restaurata nel 1993. Eccola. una bifora. L'apertura della finestra. Qui si fa la famosa festa di condominio. Allegria, gente! Distante. Eccola! Adesso un palazzo che aveva fuori, aveviат A per ściere in lucia alla sora alla fine, con una Hoodie della mal santuna. L'educa della foto. Eccola. Eccola Vachio 앉baisca. Resti della chiesa del Chiostro di San Mostiola, secolo XII, e mura. Un po' di parte qua. Ed ecco le torri medievali di Pavia, al 31 maggio 2017 da Giannaro a Gialmini. Un po' di parte qua. Un po' di parte qua. Il luogo dell'antica porta nella cinta romana delle mura presso il Palazzo Reale. Porta Palacenzi. Questa è la strada. Senza l'arte avremo bisogno di troppe spiegazioni. Ogni giorno è un viaggio e casa è il viaggio stesso. In questa casa abitò Alessandro Volta, negli ultimi anni di sua dimora in Pavia. del centenario della Pila, l'Università e il Municipio Polsero. Un po' di parte qua. 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 Grazie a tutti. 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 Siamo alle torri medievali di Pavia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo al 31 maggio 2017, quindi varie spezzoni video che dalla primavera fino a quasi l'estate, tutta la primavera e poi aggiungeremo le sponsorizzazioni con tutti i bei canali. Ciao. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e qui naturalmente qua ai tempi avevamo i mulini e qui stando molto attenti perché nel navigliaccio potrei finire finire dentro no semplicemente bagnarmi perché è basso però comunque meglio evitare questo è il deposito di grano e mulino di pavia funzionante fino al secolo scorso 1900 adesso siamo negli anni 2000 la farina la faranno in cina ecco qua qua una volta avevamo quindi bei mulini certamente sicuramente con le chiuse perché le chiuse le chiuse per l'acqua per mantenere sempre l'acqua costante sempre a stessa altezza la stessa quantità d'acqua per far girare le pale dei mulini e qua abbiamo il nostro bel navigliaccio con le campagne lì e quindi il nostro bel mulino e il nostro bel navigliaccio la mia consueta borsa varie borse portato immancabili e qui abbiamo la continuazione del nostro bel navigliaccio che lì c'è pure una casetta saranno contenti di abitare qua e qui dai che è pulito dai è fango fango che fa un po quel quell'andazzo lì e qui il nostro bel bellissimo mulino mulino cari amici adesso magari posizionare la videocamera se tutto potesse andare se tutto potesse andare ecco cari amici vedete siamo qui a pavia 16 marzo 2016 del vostro genero gelmini salve a tutti sempre felici sempre felici beh non mi sono neanche spaccato eh sapete ma che pantaloni poi la lavatrice non vanno via ecco il nostro bel mulino wow fantastico wow fantastico piacere piacere Grazie a tutti. E qui e dall'altra parte le torri del granaio. Grazie a tutti. 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 Partendo da una certa situazione o un'altra. Il cambiamento ciò che comporta su delle situazioni particolari. Grazie a tutti. 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 da portare a vita, nella vita quotidiana, da portare avanti. Quindi, bello e interessante anche questo, Bandit HP. E questa poi è la novità che spero abbia un seguito. Naturalmente, come sapete, quando si inizia, l'inizio non è mai magari così veloce, così di fretta. Quindi per adesso, insomma, c'è questo video, così. Mio fratello Gianluigi Gelmini ha aperto anche lui un canale, però è all'inizio. Allora, volendo, potendo, ci si può iscrivere Gianluigi Gelmini. E abbiamo anche il Bischieraccio. Il Bischieraccio, luoghi di belle passeggiate estive adesso, ci sono bei luoghi di passeggiate estive, come consigli vari. Bello, bello, anche ci dà sui videogiochi. Ultimamente, ci sta dando un grande affare a sfornare video di una certa qualità, nel senso a far vedere, a mostrare, a divulgare. Bene, bene. E ne fa tanti, ne fa tanti anche lui di video. Continuiamo con le varie carrellate. Io sto facendo mano a mano. Continuiamo con la nostra carrellata. Arriviamo al canale The Mystery Box. Un canale dedicato ai fatti del mistero, ai fatti raccontati. Quindi troverete dei video su misteri raccontati. Ed è molto interessante poterli ascoltare. The Mystery Box. Qui naturalmente è un cappello, no? Sono sul mio schermo. Bellecce terrificanti. Luoghi abbandonati. Urbech. I luoghi, appunto, abbandonati. Abbiamo video interessanti, prese dirette. E ci sono luoghi veramente interessanti da rivisitare, rivedere. E vedere anche per la prima volta, comunque, luoghi veramente, anche qua, interessanti di Urbech. Il canale è dedicato agli Urbech. Bellecce terrificanti. Luoghi abbandonati. Roberto Rossi. Roberto Rossi ci allieta dalle piccole cose di volantini a capire come comprare. Quindi, aiuti per l'acquisti, molto fatto così, girato così, e anche situazioni religiose a leggerci parti del Vangelo. E quindi, bene, ben venga anche una parte religiosa che ci appartiene. Ormai, anche questo, superato 200 iscritti, va molto bene. Roberto Rossi. Roberto Rossi. Ci si può sempre iscrivere, eh? Mi raccomando, se volete, se potete, ci si iscrive. E siamo arrivati al canale Telefalco. Telefalco, vari video anche di luoghi turistici, vari video anche di cose interessanti. Poi ci sono anche videogiochi, cose interessanti, movie in action. E abbiamo anche Barbadura. Barbadura è un cartone animato, quindi potete anche seguire il cartone animato Barbadura. Sempre sul canale Telefalco. Andiamo avanti. Il canale del mistero. Qua tratta, appunto, argomenti misterici. Avremo argomenti misterici. Ecco, una bella farfallina, però non c'entrava nulla. Argomenti misterici è benissimo. Un canale dedicato a quello che sono i misteri. E questo è il canale del mistero a cui ci si può iscrivere. Non so se sia una farfalla cosa sia davanti. Poi abbiamo, quindi, sono bei canali, eh. Alain Lazzaro. Alain Lazzaro. Un canale dedicato a piccoli consigli, piccole, praticamente, discussioni. e anche giri, paesaggi, cose da poter vedere, discorsi vari che possono interessare. Alain Lazzaro. Gabriele 1979. Il canale dedicato a discussioni sul sociale. E non solo. Troverete discussioni sul sociale e portare avanti queste discussioni. E anche vari consigli di come fare le cose, come gestirle, vedete, come riparare, come sistemare. Anche cosa comprare, cosa è meglio. Consigli per gli acquisti. Anche, poi, anche belle passeggiate, certo. Gabriele 1979. Horrortube. La paura. Il canale dedicato ai misteri, ufologia e anche horror. Anche horror, quindi anche riguardo trailer dei film horror. O anche dei misteri veramente particolari che sono accaduti. Quindi, da non perdere. Sempre interessante, sempre aggiornato. Horrortube. La paura. Mauro di Lernia. Il canale dedicato alle sbarbate, a come fare la barba. Quindi, è praticamente interessante per come curare noi stessi, curare il nostro corpo. Quindi, è importante, è importante per noi stessi, per la nostra salute, per il nostro vivere quotidiano. Mauro di Lernia. Mauro di Lernia. Insieme al bellissimo gattino nero. Pochi fronzoli, fumetti, libri e action figures. Praticamente un canale dedicato appunto ai fumetti e libri e agli eroi, agli eroi dei fumetti. Agli eroi con i quali abbiamo sempre giocato. Agli eroi con i quali abbiamo sempre fantasticato. E anche visite a varie fiere, consigli su cosa comprare. Bene. Pochi fronzoli. Appunto un canale dal titolo la dice lunga. Sander TV. Sander TV. Discussioni, discussioni costruttive. Cose interessanti perché discussioni, praticamente, su cose, su dibattiti importanti. Discussioni da portare avanti. Dibattiti costruttivi. Dibattiti costruttivi sono sempre interessanti. Sander TV. Sander TV. Ed ecco il canale di mia madre, Anna Rinaldi, con tanti bei video, più che altro fatti all'esterno, di gran bei posti da visitare, gran bei video. Anna Rinaldi, mia madre, e questo è il precedente delle sponsorizzazioni, precedente video, top 5, top 5, software and friends, programmi amici. Dove c'è la precedente sponsorizzazione. Ricordate sempre, Gennaro Gialmini, alla prossima.